Bene ragazzi, io sono Martix, bentornati su una nuovissima guida di forne In questo video andiamo a visitare lo squalo, forra favolosa e poi rapide a riposo, o come volete Lo squalo, uno dei migliori posti al momento, praticamente raga lo amo e ci lendo tanti di quelle volte in una singola giornata che non ne ho propria idea Si trova in alto a sinistra qui di nord-est della mappa, ovvero B1 E' inutile anche pinnarlo perché lo conoscete tutti quanti, ci spostiamo subito sul secondo luogo Rapide a riposo, dove si troverà questo posto ragazzi? Ci sarete sicuramente passati tanti di quelle volte ma non ci avrete mai fatto caso Quindi dirigiamoci alla destra di Lago Languido La zona è proprio questa, vediamo se va a contare il mark in basso a sinistro, rapide a riposo Ci spostiamo subito sul terzo luogo ma prima facciamo vedere per bene dove ci troviamo Allora, Lago Languido, noi siamo qui Terzo e ultimo luogo Davvero vicinissimo dalle rapide a riposo raga perché si tratta della mega cascata in mezzo alla mappa Quindi un po' più avanti di Lago Languido Eccola qui, andiamo a vedere se conta anche questa terza zona Dovrebbe contarla per forza Forra favolosa in basso a sinistra, tutto ok 3 su 3 e la missione è completata Raga io spero di esservi stato d'aiuto Se così fosse mi raccomando lasciate tantissimi like Condividete il video con tutti i vostri amici E soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Noi ci vediamo nella prossima video guida Un saluto da Martex Ciao brothers